Hanno trascorso la notte nelle stanze del Dipartimento regionale alla salute, sede dell'ufficio del commissario, i dipendenti della fondazione Campanella che da ieri hanno avviato un'occupazione pacifica che non intendono interrompere in mancanza di risposte chiare e concrete per la salvaguardia dei posti di lavoro. Sì, noi purtroppo siamo ormai arrivati alla più completa disperazione, abbiamo per l'ennesima volta ricevuto questa lettera di licenziamento per cui noi dal 10 aprile siamo tutti a casa, indistintamente 245 persone e 245 famiglie calabresi che sono completamente allo sbaraglio. Quindi noi questa volta siamo veramente intenzionati a non muoverci da qui finché non avremo veramente una soluzione concreta al nostro problema, siamo stanchi delle parole, delle promesse, sicuramente confidiamo nel lavoro di tutti, siamo convinti e siamo sereni che lavoreranno per noi, però questa volta non ci sposteremo finché non avremo qualcosa di concreto. Io volevo fare un appello al nostro presidente che ci sta prendendo in giro, viene a fare delle promesse e che non ha mai mantenuto, adesso vogliamo delle cose scritte perché siamo stanchi, abbiamo tutti dei figli, della famiglia e non possiamo fare più questa vita, veramente. Anche io sono venuta stamattina per dare il cambio ai miei colleghi che poverini hanno fatto la notte pure per noi e anche io dico la stessa cosa perché non è giusto arrivare a 50 anni come me, prendo il mio caso, ho lavorato per 20 anni e adesso mi ritrovo che a 50 anni dopo essermi una vita sacrificata pure per gli altri devo perdere il posto di lavoro perché è giusto. In questo momento la fondazione Tommaso Campanella vengono privati i cittadini calabresi di due diritti fondamentali, il diritto alla salute perché di fatto la fondazione non lavora più quindi molti dei nostri pazienti sono costretti a sospendere delle terapie, a dover provvedere a trovare nuove strutture, nuove istituzioni che possano seguirli e il diritto al lavoro. Sono persone che hanno lavorato per 8 anni e che in questo momento sono costretti di fatto a non poter dare seguito alle richieste dei nostri pazienti. I lavoratori hanno accolto in maniera composta e civile l'arrivo del subcommissario Andrea Urbani che dopo essere stato a Palazzo Le Manni si è chiuso in riunione nella propria stanza con il dirigente generale del Dipartimento Salute Bruno Zito e il dirigente del Dipartimento Presidenza Nicola De Marco che erano già al lavoro sulle possibili soluzioni alla vicenda.